E abbiamo carissimi amici questa bella notizia che riguarda Belen Rodriguez che ha confermato o lo ha proprio detto che è fidanzata quindi non abbiamo dubbi perché l'ha detto direttamente lei allora stavolta non ci sono dubbi o almeno andremo ad indagare per capire se veramente sarà così soprattutto dopo l'ultimo gesto della showgirl argentina che ha sorpreso tutti dicendo questo perché nella giornata di giovedì 5 settembre ha in pratica pubblicato alcune foto in mezzo a queste foto tra queste è spuntato il suo nuovo partner quindi è lì che casca l'asino quest'ultimo infatti ha scritto anche un dolce commento dedicato proprio alla sudamericana ormai signori Belen Rodriguez ha deciso così di fiondarsi tra le sue braccia in maniera praticamente ufficiale e quindi possiamo dire che è fidanzata sì nonostante nelle scorse settimane si fosse detto tutt'altro che però era un qualcosa di infondato quindi noi basiamoci su quello che è attuale che è più sicuro c'è chi addirittura riteneva che lei non riuscisse ormai a legarsi in maniera sentimentale in modo serio in modo duraturo soprattutto perché sappiamo no nel mondo della tv cioè quale coppia dura forever guardate Totti e Ila di Blasi insomma l'abbiamo visto un sacco di volte poi per carità ci dispiace a noi anche se siamo esterni a tutte queste storie però comunque sia ci dispiace sempre perché è una coppia che scoppia non è che faccia bene comunque soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo e sono sicuro che sarete d'accordo con me comunque in caso lasciate qui sotto i vostri commenti e potete dire tranquillamente la vostra innanzitutto il momento in cui era naufragato il suo matrimonio con Stefano De Martino ha portato ancora più dubbio su questa cosa cioè nel senso riuscirà prima o poi a trovare qualcun altro beh diciamo che adesso possiamo dire che non è stato così stavolta non ci sono indiscrezioni non ci sono voci provenienti da fonti vicine a Belen ma c'è proprio il dato di fatto che si è fidanzata e che è stato confermato proprio implicitamente dalla stessa condottrice tv la quale finalmente ha postato una prova la famosa prova del 9 cioè quell'immagine della sua dolce metà e lo ha fatto su Instagram sappiamo anche attenzione tutti i dettagli nome cognome di colui che finalmente ha riconquistato il suo cuore di chi si tratta? di Angelo Edoardo Galvano quindi parleremo di lui signori ma non a parte in questo video ma in generale se la coppia è veramente coppia parleremo di lui sicuramente in futuro parliamo di costui che è ingegnere della Sicilia che si era già visto con lei nel recente passato grazie ad alcune paparazzate ormai la storia d'amore andrebbe avanti da alcuni mesi come ricordato anche dal sito Gossip TV ma è la primissima volta che lei va proprio a mostrarlo con una foto una foto di lui e lo ha fatto online significa cioè proprio davanti a tutti eh sì vedremo poi cosa succederà in futuro comunque vi ricordo che Galvano ha scritto come commento al post S.O.S. Mimuneca Hermosa che tradotto in italiano signori significa S.O.S. mia bella bambolina il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video